Pronti? Via! Pronti? 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 Chaya. 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 Chaya semplice. Alla corsa fermi. Otto, cinque e cinque ancora. Tre, cinque e cinque ancora. Tre, quattro e quattro ancora. Tre, quattro, cinque, pausa. Otto, cinque e cinque ancora. Tre, cinque e cinque ancora. Tre, quattro e quattro ancora. Tre, quattro, cinque e cinque ancora. Seconde, seconde ancora. Seconde, seconde ancora. Terze e terze ancora. Quarte e quattro ancora. Uno, quinte, seconde, seconde ancora. Tre, seconde ancora. Terze, sennò, doig. Tre, quattro e ancora. Tre, quattro e quattro e quattro e quattro. Tre, quatro e quattro. Tre, quattro e quattro ancora. principi anche questo. Tre, quattro e quattro può. 7, 9, 7, 8, settime, ottave e grosse, e grosse ancora, seste e sesta ancora, settime e settima ancora, ottave, ottave ancora, 5, rosse con il 2, seste con il 1, 2 volte, settime e seconde, 2 volte, ottave e terze, 2 volte, settime e seconde, ottave e terze, rosse 5, 2, e giù, 1, 2 volte, settime e seconde, 2 volte, settime e thirde, stime e seconde, Grazie. 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 Grazie.